Vediamo qual è la prima figura, la prima circostanza in cui noi capiamo che lo spazio moderno è lo spazio vuoto. E' il grande libro di Tommaso Moro, Utopia, dove per l'appunto si pensa alla politica in una chiave a spaziale, una chiave priva di spazialità. L'utopia di Tommaso Moro è l'immaginazione di una società politica in cui la politica e la morale coincidono. Si dice che questa coincidenza di politica e morale non ha luogo in questo mondo e dunque siamo nella utopia. Secondo, si dice che in realtà ha luogo, cioè è in un luogo specifico, in un'isola da qualche parte. Non a caso questa isola felice, questa isola politico-morale non se ne sta chiusa in se stessa, ma si espande. E si espande in un modo specifico, molto curioso, fa guerre di liberazione, fa guerre giuste, guerre etiche, guerre per liberare i popoli dall'oppressione. Questa è una sintesi di uno dei modi possibili di abitare politicamente la modernità.